Questa mattina i carabinieri di Nocera Inferiore, su richiesta della locale procura, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di tre soggetti, ritenuti responsabili di concorso in tentata estorsione, danneggiamento e porto abusivo di armi, aggravati dall'aver agito con metodo mafioso camorristico. Il provvedimento scaturisce dalle risultanze di un'attività investigativa avviata lo scorso mese di luglio, a seguito dell'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco contro il portone d'ingresso dell'abitazione di un'imprenditrice di Sant'Egidio del Monte Albino. Le indagini hanno consentito di identificare l'autore materiale degli spari e della collocazione di una lettera minatoria sul portone dell'abitazione della vittima, individuare altri due componenti del sodalizio che accompagnarono l'esecutore materiale e documentare le responsabilità dei tre indagati.